Tanto tempo fa viveva nel regno di Gallomir uno stregone chiamato Zarok. Uomo arrogante e spietato, Zarok odiava i suoi concittadini per i loro costumi semplici e pacifici. Decise quindi di radunare un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, capeggiò le milizie durante la battaglia contro l'orda degli empi demoni. Ancora oggi il popolo canta ballate che raccontano di come guidò la carica contro la schiera maledetta, di come i demoni cadevano ai suoi piedi come spighe di fronte alla palce e di come alla fine, benché ferito a morte, annientò lo stregone. Fortescue entrò nella storia quel giorno come l'eroe di Gallomir. Le sue gesta inaugurarono un periodo di pace che sarebbe durato cent'anni, fino a quando lo stregone tornò.